Amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì iniziamo dall'Europa vi segnalo subito condizioni di maltempo sui settori centrali del nostro continente dalle altre parti invece non mancano ampie schiarite e come temperature valori in diminuzione proprio sulla cosiddetta Mitteleuropa dove il maltempo appunto insisterà. Per quanto riguarda Italia invece si fa avanti un parziale graduale miglioramento anche se rimarrà ancora un po' di variabilità tra poco entreremo nel dettaglio cominciamo dalle temperature valori minimi in diminuzione a nord fra un po' freschino a inizio giornata arrivare a un pochino più fredda per quanto riguarda le massime valori per lo più al di sotto dei 20 gradi solo all'estremo sud potremo superarli ma nel complesso non si starà male. Ora andiamo a vedere nel dettaglio la previsione al mattino ancora sarà possibile qualche piovasco soprattutto sulle regioni di nord est ma piano piano il tempo tenderà a migliorare da ovest in tutto il nord Italia. Anche nelle regioni centrali ci attendiamo ampie schiarite però lungo la dorsale appenninica a tempo un po' variabile forse qualche acquazzone potrebbe raggiungere anche le marche. Infine al sud qualche piovasco a inizio giornata sarà possibile in maniera anche piuttosto diffusa nelle estreme regioni meridionali peninsulari. Nel pomeriggio qualche piovasco torna anche in Sardegna ma non mancheranno delle belle aperture.